La capacità in particolare di Joe di trovare l'equilibrio pittorico tra la sua esuberanza del mettere e l'equilibrio in ciò che toglie per lasciare quello che deve essere lasciato penso che sia la cosa più straordinaria. Lui è un artista secondo me molto particolare, un artista che ha il dono brutale, che capisce immediatamente come interpretare gli spazi e lo fa con una maestria direi quasi antica ma riletta in una chiave contemporanea che è un forse un unico con la velocità di tratto che ricorda il giovanissimo Tintoretto. Il beleno parte da lontano, siamo Davide e Maurizio e due titolari. Nasce quasi circa un anno fa, il nostro obiettivo è creare relax, comfort ed esclusività. Ho detto anche 5 altre storie appunto perché in ogni sala tu puoi vivere un'avventura, un'emozione diversa. L'emozione che dà il suo lavoro e vederlo lavorare è coinvolgimento dei sensi. Grazie. 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 Grazie.